Il Formez, proseguendo una serie di iniziative di accompagnamento alla implementazione della riforma del PIAO e del Valore Pubblico, realizza un ulteriore progetto di accompagnamento all'amministrazione, finalizzato all'individuazione di una batteria di Key Performance Indicator di Valore Pubblico. Come prima attività faremo dei laboratori con le amministrazioni regionali, i grandi municipi e le province, proprio per l'individuazione di questi KPI di Valore Pubblico. Come seconda attività, che durerà circa 18 mesi, faremo questi percorsi di accompagnamento finalizzato alla sperimentazione di processi di programmazione integrate, quindi PIAO, DEF e DUP. Altre amministrazioni saranno selezionate attraverso il contest PIAO-K, quindi come ulteriore progetto Formez, e poi coinvolgeremo l'ANCI e l'UPI, proprio per fare in modo che questa definizione di KPI sia quanto più partecipata sia nella public governance di filiera, che è un po' il filone ispiratore della modalità con cui le amministrazioni dovranno approcciare la definizione del valore pubblico e della definizione del PIAO, dei processi di programmazione integrati.